Un ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori, lavoratori delle mense scolastiche di Alessandria. Sono scesi nuovamente in piazza con un altro presidio sotto Palazzo Rosso, la sede del Comune. Manca solo una settimana alla scadenza dei termini per la gara d'appalto che assegnerà il servizio e non c'è ancora un accordo. De De Vinci. ...delle mense scolastiche accompagnati dai rappresentanti sindacali di CGL, CISL e UIL hanno presidiato fino a sera l'ingresso di Palazzo Rosso al grido di cresce la protesta Non ci rendiamo. Come è noto al centro della protesta contro le decisioni dell'amministrazione comunale c'è l'appalto che sta per essere rinnovato con la presentazione delle offerte al bando di gara che scade tra pochi giorni, il 30 maggio. Durante il presidio è stato distribuito un volantino in cui si spiega che l'ingente taglio di risorse e la mancanza di garanzie occupazionali determinano forti incertezze sul mantenimento di un servizio di qualità e sul futuro lavorativo dei centodipendenti. I sindacati precisano che sono rimasti sconcertati dall'annuncio che giovedì scorso la Giunta Comunale ha fatto nel corso dell'incontro rispetto alla reinternalizzazione del servizio di scodellamento negli asili nido da affidare a 10 dipendenti comunali, assunti e pagati dal Comune ma a detta degli amministratori improduttivi. CGL, Cisle e Will precisano ancora che per quanto li riguarda questa è la conferma che i licenziamenti sono dietro l'angolo. I lavoratori della ristorazione scolastica del Comune di Alessandria ritorneranno quindi nuovamente in piazza questo giovedì 24 maggio dalle ore 16.30 in poi. E cambiamo argomento con la morte di Rosangela Paratore, sono tre gli omicidi compiuti in provincia di Alessandria negli ultimi sei anni che hanno avuto come Comune denominatore la volontà di porre fine alle sofferenze di una persona amata. La chiamano la buona morte da quando il 20 dicembre del 2006 Pier Giorgio Welby, militante del partito radicale, si fece aiutare dal suo medico a staccare le macchine che lo tenevano in vita, rifiutando l'accanimento terapeutico e ponendo così fine alle sue sofferenze. Quello di uccidere un proprio cauro in stato morboso degenerativo è un atto etico giuridico che spacca in due le coscienze. Da una parte la vita umana ha un valore inviolabile, dall'altra porre fine alla propria esistenza è un evento a noi disponibile. Negli ultimi sei anni la cronaca della provincia di Alessandria ha registrato tre omicidi, tutti riconducibili a quella sorta di eutanasia che comunque in Italia rappresenta un reato. Nel novembre del 2012 William Holmes, un medico statunitense, uccide nella propria casa di Via Dazio, nella frazione di Valle San Bartolomeo, la propria moglie 69enne, Patricia Ann, ex modella. Minata per sempre da una forma di artrite deformante e reumatoide che non le lascia a scampo, neppure in termini di dolori. Dapprima le somministra una forte dose di sonnifero e poi la uccide nel sonno accoltellandola al fianco. Mia moglie mi ha pregato di farla morire perché non ce la faceva più a soffrire, dirà in lacrime i carabinieri. Il 19 ottobre del 2016, a capanne di Marcarolo, alcuni boscaioli notano un uomo che vaga senza meta. Si tratta del 53enne tedesco Albert Guntenschleischer Lindmeier che poco prima ha ucciso la moglie Aide Caterina, malata di cancro, tentando poi a sua volta di togliersi la vita. Una decisione sofferta, presa insieme, per dire anche in questo caso basta il dolore. 18 maggio 2018, a San Salvatore Monferrato, Antonino Paratore fa ingurgitare acido muriatico alla sorella Rosangela di 73 anni, cieca da quando ne aveva 18 e malata da tempo. Poi anche lui beve la stessa sostanza e attualmente sta ancora lottando tra la vita e la morte. Tre grandi amori spezzati per liberare un dolore lancinante che ha letteralmente invaso le loro esistenze. Tre tragedie nate con malattie invalidanti e cresciute con la mancanza di un sostegno sociale, responsabile di quel senso di isolamento e dallo stigma associato alla necessità di aiuto. Tre storie unite da un filo rosso a formare dolore, amore e morte. Risarcisce, il comune può chiudere la vertenza penale con un patteggiamento, un ex dipendente di Ovada accusata di aver intascato 130 mila euro versati dai contribuenti. Emma Camagna. Se finisce di colmare in tempi brevi il buco riscontrato nelle casse comunali di Ovada, mancano 10 mila dei 130 mila euro dovuti, l'ex dipendente dello sportello urbanistica di Ovada, Patrizia Massa, imputata di peculato, può accedere al patteggiamento contenuti in una pena non certo elevata. Per questo è stata rinviata l'udienza davanti al gruppo di Alessandria Stefano Moltrasio. È la Corte dei Conti che le ha inciunto di restituire quella somma. Tra il 2009 e il 2015, secondo il conteggio, l'impiegata, poi licenziata, avrebbe trattenuto i 130 mila euro costituiti da diritti di segreteria versati dai contribuenti. Nessuno si era accorto del pesante ammanco. Patrizia Massa era considerata dipendente modello, ma a seguito di un infortunio fu costretta a rimanere assente e vennero alla luce le pesanti irregolarità. Disse di esserne responsabile solo in minima parte, e cioè la sottrazione di 20 mila euro perpetrata a causa di gravi difficoltà che si trovò ad affrontare. Disse di avere consegnato i diritti di segreteria incassati non all'economo, ma ad altre persone peraltro mai identificate. La Corte dei Conti invece ha sentenziato a suo tempo che lei è l'unica responsabile e lei deve restituire la grossa cifra. L'imputata è difesa da Luciano Crocco, il comune di Ovado e parte civile con Tino Goglino. Una cosa è certa, Massa godeva della massima fiducia negli uffici comunali e la circostanza l'avrebbe facilitata a impossessarsi di parte delle somme che riscuoteva in relazione ai compiti chiamati a svolgere. Ora di attesa per i tanti tifosi dell'Alessandria Calcio per la partita di ritorno dei Grigi contro il Feral Pisalò, fischio d'inizio alle 20.30 allo stadio Moccagatta. Ma qual è l'attesa in città? Se ne è occupato Franco Capone. Dopo la festa del Borgo, il quartiere Rovereto, che ospita lo stadio Moccagatta, tornerà questa sera ad illuminarsi per ospitare la gara di ritorno dei play-off fra l'Alessandria ed il Feral Pisalò, finita all'andata 3-2 per i Grigi. Sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per sostenere i Grigi nel lungo cammino di questo mini campionato ricco di spareggi e di emozioni. E' il calcio delle complicazioni, quello che mostra il braccio di ferro fra formazioni del Nord e del Sud per raggiungere il traguardo finale della Serie B. Questa sera sarà ancora una serata di emozioni, di ansia, la stessa che l'Alessandria del presidente Luca Di Masi ci ha abituati a trascorrere fra il calcio e la tifoseria, soprattutto quella dei ragazzi della Curva Nord. Sarà una festa come quella vissuta pochi giorni fa quando i giocatori di mister Michele e Marcolini alzarono al cielo la Coppa Italia. Ma questa sera l'appuntamento alle ore 20.30 avrà un'emozione diversa, ma un incitamento più forte per continuare il cammino verso la promozione. La Regione Piemonte ha finanziato un progetto a favore delle attività dei centri di aggregazione al bando ha partecipato anche la città di Ovada. Sentiamo Fabrizio Mattana. Il Comune di Ovada ha partecipato al bando regionale inerente alla concessione di finanziamenti rivolte ai comuni singoli e associati per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanili, presentando il progetto Cittadinanza Attiva. Parliamo di Europa. L'iniziativa, che è stata approvata e finanzata dalla Regione Piemonte, si rivolge a giovani dalla fascia d'età 15-34 anni e intende promuovere il senso di appartenenza all'Unione Europea e alla propria comunità territoriale, l'educazione alla cittadinanza attiva e l'impegno delle giovani generazioni nella vita pubblica e sociale. Prevede inoltre la creazione di tavoli di lavoro che vedranno protagonisti giovani ed educatori, che potranno creare attraverso l'ausilio dei social network una pagina dedicata al progetto e partecipare ad un corso di comunicazione interamente gratuito. Il tutto avrà luogo il mercoledì e il giovedì dalle sede alle 18 presso il centro di aggregazione Giovanet, che in collaborazione col Comune di Ovada ha fra gli obiettivi primari la costruzione di un'alleanza educativa fra istituzioni, scuole e famiglia, come ha affermato durante la presentazione dell'iniziativa 2018 la delegata alle politiche giovanili Elena Marchelli. Non vogliamo sostituire gli educatori, ma affiancarli. Il centro, insieme ad alcuni rappresentanti dello sportello Informa Giovani, ha contribuito al rinnovamento delle informazioni messe in rete in collaborazione col sito di Piemonte Giovani, nato con l'intento di innovare il sistema di dati online rivolti ai ragazzi. L'onorevole Cristina Bargero ha presentato nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il suo ultimo saggio dal titolo Il Piemonte oltre la crisi, la prefazione del volume è a cura del Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Nella sala Broletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l'onorevole Cristina Bargero ha presentato al pubblico il suo libro intitolato Il Piemonte oltre la crisi. L'opera racchiude l'esperienza della Bargero come ricercatrice presso l'Ires Piemonte, un volume di oltre 100 pagine che presenta un indice molto dettagliato e permette di affrontare i temi dell'andamento economico di questi ultimi anni. La presentazione del libro è stata anche l'occasione per un dibattito, uno scambio di opinioni tra l'autrice Cristina Bargero, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Pierangelo Taverna e l'amministratore delegato di AMAG SPA Mauro Bressan, a moderare la giornalista Antonella Mariotti. Il Piemonte come tutta l'Italia, il Nord Italia ha attraversato dal 2008 un periodo difficile di congiuntura che aveva radici già profonde, radici che arrivavano da una doppia debolezza della nostra regione. Oggi, a quanto pare, noi il peggio è passato, ce lo dicono i numeri, ce lo dicono i dati dell'export, della produzione industriale, noi stiamo tornando a crescere. Occorre continuare a lavorare in questa direzione, occorre non farsi per non perdere anche quelle che sono le occasioni strategiche, una di queste ad esempio è quella del terzo valico, però il terzo valico per essere un'occasione di crescita della nostra provincia, non può essere solo un corridoio che lo attraversa, ma deve anche garantire lo sviluppo di quei servizi logistici ad alto valore aggiunto che hanno fatto la ricchezza ad esempio di tutta la zona vicina al porto di Rotterdam. Io qui rappresento un mondo, che è quello delle aziende partecipate, cerco di dare il mio contributo agli stimoli che mi ha dato la lettura di questo libro, cercando di trovare cose, attività e nuovi indirizzi che insieme possono contribuire a migliorare la nostra situazione economica, la nostra situazione sociale, relazionale. Quindi io direi che è un momento questo importante perché è un momento che è dedicato a una politica, ma che è anche un'attenta ricercatrice che basa le sue scelte politiche sui dati, sulle analisi. Una cinquantina di appuntamenti tra incontri, presentazioni, workshop e persino un concerto molto fumettoso, tutto questo e molto altro, è nel programma della terza edizione di Casale Comics, in programma il 16 e 17 giugno negli spazi del Castello. Alessandra Della Cato. Si scaldano i motori per l'edizione 2018 di Casale Comics & Games. L'appuntamento torna al Castello dei Paleologi il 16 e 17 giugno. La Kermess, dedicata al fumetto e a tutti gli amanti di un mondo dove la fantasia regna sovrana, catalizzerà in città migliaia di persone. Gli organizzatori di Moon hanno illustrato un programma a zeppo di eventi e nomi di richiamo. Ci saranno i super ospiti Sio, Giorgia Cosplay, Daniele Dacco, Nicola Bernardi. Il palco al centro del primo cortile sarà il teatro delle sfide dei cosplayers. Loro, ma anche i gruppi di fandom e un po' tutto il mondo comics & games, saranno al centro di una parata che si snoderà dal castello per le vie di Casale e subito a conclusione del concorso 10 Magnifici Eroi. Tantissimi poi partecipanti del settore, quasi 350, fra espositori, associazioni, cosplayer, professionisti, disegnatori, illustratori, chiamati per partecipare alla fiera. Sarà quindi un castello davvero pieno di cose da vedere, sentire e anche gustare. Fra mostre, giochi, esibizioni e la possibilità di avere gratuitamente a disposizione i disegnatori della rassegna per trasformare le vetrine della città in una vera e propria galleria d'arte, Casale Comics punta a stupire tutti. Fra i molti appuntamenti, quello del 17 giugno, con un concerto serale in castello dedicato a Fred Buscaglione, personaggio decisamente fumettoso per le onomatopee, il fascino della Hard Boiled Stories, ma anche il tratto caricaturale. Tutte le informazioni sul sito www.casalecomicsandgames.com Tra poco nella pagina sportiva torneremo a parlare dell'Alessandria Calcio, delle ultime novità proprio in vista dell'incontro di questa sera alle 20.30 allo stadio Moccagata contro il Feral Pisalò, subito dopo le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, l'informazione con noi torna più tardi, arrivederci.